Sessua ha educato i suoi discepoli a crescere nella fede, a credere e ad affidarsi sempre di più a Lui per costruire sulla roccia la propria vita. Per questo essi gli chiedono, accresci in noi la fede. Il nome del Signore. Od impirò i miei odi al Signore, davanti a tutto il suo popolo. Grazie, fratelli e sorelle, perché mio vostro sacrificio sia gratuito, Dio Padre Onipotente. Oc est enim corpus meum, quod provobis traditor. Famiglie e giovani sul tema lo sguardo del coraggio per un'educazione alla speranza. È il momento della Santa Comunione. Vediamo, fa emergere in tutta la sua luce il bene che vuole. Oc est enim corpus meum, quod provare in tutta la sua luce il bene che vuole. Viva il regno nei secoli dei secoli. Carità, Angelus Domini un Siavit Maria. Ave Maria, grazie a plena Domini. Grazie a tutti.